Ciao a tutti ragazzi, video inaspettato, non programmato, ma sono qui a caldo, di fretta, sto addirittura anche facendo un trasloco, perché è arrivata la notizia che qualsiasi conservazionista non voleva mai ascoltare. Notizia che arriva dal Trentino. L'orso M62, quindi non la famosa GG4 responsabile dell'ultima tragedia accaduta, è stato trovato morto. Questo orso era già nella lista nera di Fugatti, di questo presidente che ha trovato il suo nuovo nemico da sconfiggere, cioè la fauna selvatica, cioè gli orsi, praticamente un nemico inesistente, come spesso la politica italiana, incapace di risolvere problemi, priva di contenuti, priva di risposte reali a dei problemi che i cittadini devono vivere, ovviamente devono inventarsi un nemico da abbattere. In questo caso la provincia ha trovato nella popolazione di orsi il nemico cattivo da sconfiggere. Tutta questa propaganda, tutta questa disinformazione e tutta questa mala gestione che stiamo vedendo con i orsi in Trentino, ma più in generale con tutta la politica italiana, porta poi a delle conseguenze ovviamente che nessuno cerca, che nessuno vuole, come in questo caso la morte, ancora non si sa, è una notizia calda proprio appena uscita nei principali quotidiani, di questo orso, l'M62, che è un orso già inserito appunto nella lista nera degli orsi problematici, è stato trovato morto. Ho deciso di fare questo video velocissimo, cortissimo, perché ancora non ho nemmeno tanto materiale di cui discutere, perché appunto è una notizia di cronaca attualissima, c'è il rischio che la disinformazione, la propaganda che è stata fatta da una parte e dall'altra, dalle diverse fazioni in gioco, porti poi a questo risultato, cioè al cittadino che si fa giustizia da solo. Ovviamente non sappiamo ancora di che è morto l'orso, M62, potrebbe essere una tragedia, potrebbe essere una morte naturale, oppure no, oppure potrebbe essere un evento causato e voluto da qualche personaggio. Questo ancora non lo sappiamo e se ci sono delle novità mi raccomando ragazzi commentatele qui sotto, così almeno faremo un po' di dibattito, vediamo come si svolge questa notizia. E niente, avevo probabilmente deciso di non fare più video su Your Sin Trentino, ma di continuare con i normali argomenti che tratto qui sul canale di Keep The Planet, ma la cronaca a volte impedisce di andare oltre, perché pensavo di aver già detto tutto sulla questione degli Orsi in Trentino, ma a quanto pare non era tutto, perché ora ci dobbiamo anche ritrovare a combattere con, non si sa cosa, con bracconieri alimentati da un'amministrazione diciamo amica di questa tipologia di sviluppi, oppure no? Chi vivrà, vedrà. Io sono Alessandro, questo è Keep The Planet, il canale che parla di natura e conservazione. Se vi piacciono questi argomenti, ma ovviamente iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate del ritrovamento dell'orso morto. Ciao!